Amici telespettatori di Reteotto, abruzzesi tutti, restiamo a casa. La causa è nobile, come nobile è la romanza di Francesco Paolo Tosti, che vorrei dedicare oggi a tutti noi. Cosa c'era nel fior che m'hai dato, forse un filtro, un arcano poter, nel toccarlo il mio cuore ha tremato, ma l'ho lezzo torbato in pensiero. Nelle vaghe movenze che c'hai, un incanto mi è forse con te, freme l'aria per dove tu venghi, spunta un fiore ove passa il tuo piede, freme l'aria per dove tu vai, spunta un fiore ove passa il tuo piede. Io non chiedo qual plaga beata, fino adesso soggiorno ti fu, non ti chiedo se ninfa o se fata, se una bionda parvenza sei tu. Ma che c'è nel tuo sguardo fatale? Cosa c'hai nel tuo magico dir? Se mi guardi un'ebbrezza massale, se mi parli mi sento morir, se mi guardi un'ebbrezza massale, se mi parli mi sento morir. Io resto a casa.